Bentrovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpa al caldo e anticiclone africano protagonisti sulla Liguria, periodo stabile caratterizzato da tempo tipicamente estivo e consistente aumento delle temperature che persisterà per tutta la settimana. Oggi lunedì 31 luglio, bel tempo con cieli sereni salvo qualche cumulo pomeridiano in formazione nelle zone interne e sui rilievi alpini, venti deboli e prevalenti regime di brezza sulla costa, da nord est sull'imperiese con locali rinforzi, deboli meridionali sulle zone interne, mare localmente mosso sull'imperiese, poco mosso altrove, temperature massime in aumento sulla costa fino a 33 gradi, fino a 34 gradi nelle zone interne. Domani martedì 1 agosto ancora cielo sereno, al più disturbato il cielo da qualche velatura in transito, dal pomeriggio si formerà qualche cumulo nelle zone interne con possibili locali addensamenti più probabili sui rilievi dell'estremo ponente, venti fino a moderati dai quadranti settentrionali sul ponente al mattino, deboli variabili o a regime di brezza dal pomeriggio, mare mosso a ponente, poco mosso altrove, temperature in aumento, le massime lungo la costa potranno toccare i 34 gradi, arriveranno invece anche a 36 gradi nelle zone interne. Chiudiamo con dopo domani, mercoledì 2 agosto, cielo sereno, qualche velatura e la formazione di qualche innocuo cumulo nelle zone interne della regione, soprattutto nelle ore pomeridiane, venti deboli in prevalenti regime di brezza sulla costa, deboli da sud est nelle zone interne dal pomeriggio, mare mosso a ponente in rapido calo, poco mosso altrove, temperature stazionari ma su valori elevati lungo la costa tra 29 e 34 gradi, nelle zone interne tra 33 e 36 gradi, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it, sulla pagina facebook di Arpal a risentirci.